In questo video parleremo della pressione alta che in gergo dedico viene appunto denominata come ipertensione arteriosa. Si dice sempre che la pressione arteriosa tende sostanzialmente ad aumentare con l'avanzare dell'età. Ma è vero questo concetto che molto spesso viene detto in medicina o non è vero? Ve ne parlerò in questo video. Vi dico subito che la polarizzazione mediatica su questo tema non è sempre corretta. Siamo tutti sotto il destino ineluttabile che invecchiando soffriamo di ipertensione arteriosa o comunque sia siamo maggiormente a rischio. Questa è l'idea che passa ma in realtà non siamo tutti quanti noi sotto questo destino ineluttabile. Vi spiegherò anche il perché in questo video. Quindi non dobbiamo giustificare spesso l'aumento della pressione correlato con l'avanzare dell'età. Infatti un'ipertensione arteriosa presente si correla comunque con una morte precoce. Tuttavia per trovare delle risposte concrete, delle risposte pratiche a questo dilemma, a questa domanda che ho posto appunto in questo video ci dobbiamo appunto recare nelle giungle della foresta amazzonica. E molti di voi diranno ma perché ci dobbiamo recare nelle giungle della foresta amazzonica per spiegare qualcosa che ha a che fare con il corpo umano? Che cosa c'entra? Beh se avete pazienza lo capirete benissimo. Il diabete, la pressione alta, sono malattie che dipendono in misura minore dai nostri geni e in misura maggiore dal nostro stile di vita. Nella parte del Venezuela, della foresta amazzonica, ci sono ancora oggi delle tribù che vivono come dei nomadi, come degli uomini appunto della pietra se vogliamo, quindi come dei cacciatori raccoglitori. Mangiano animali selvatici nella foresta oppure appunto i prodotti, mangiano i prodotti che crescono naturalmente nella giungla raccogliendoli. appunto si chiamano cacciatori raccoglitori. Uno stile di vita come il loro, come questo, implica ovviamente una notevole attività fisica, ma anche nel tempo libero si dedicano alle interazioni sociali con i membri del proprio gruppo, quindi si muovono tanto e stanno stretto contatto con gli altri. Questi due aspetti sono molto 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 importanti. Recentemente un ricercatore americano si è recato in questa foresta per poter studiare più da vicino queste tribù proprio perché era incuriosito da questo aspetto e quindi studiò in particolar modo due tribù presenti nella giungla amazzonica, gli Yanomami e gli Yekuana. Per quanto riguarda gli Yanomami vivono in uno stato di perfetto isolamento, anche se oggi hanno iniziato già ad avere dei contatti con l'uomo moderno. Li Yekuana, al momento di questo studio, gli Yanomami non avevano ancora avuto contatti o se non avevano avuto contatti erano stati veramente dei contatti minimi, ma al momento invece di questo studio fatto da questo scienziato americano, gli Yekuana invece avevano avuto dei contatti comunque sia sporadici perché il governo venezuelano aveva costruito una pista di atterraggio nel loro territorio e quindi il first contact antropologico si era sostanzialmente verificato. Gli Yekuana, cioè quelli che abbiamo detto avevano avuto dei contatti sporadici al momento di questo studio, consumavano, avendo avuto contatti sporadici con l'uomo moderno, consumavano sporadicamente degli alimenti moderni. Gli Yanomami invece, al momento dello studio non avendo avuto contatti con l'uomo moderno, consumavano solo alimenti appunto della foresta, quindi non consumavano alimenti moderni e la loro dieta appunto per antonomasia è sempre una dieta iposodica che significa a basso contenuto di sodio, basso contenuto di sale. In realtà anche gli Yekuana avevano appunto una dieta iposodica, poi con il first contact ovviamente hanno iniziato a mangiare cibi moderni che sono molto più ricchi di sale, e quindi questa dieta iposodica in alcuni di loro ha cominciato a vacillare, ha cominciato a venire meno. Scientificamente questo scienziato americano cercava di comprendere se il contatto con il mondo civilizzato avesse avuto un peso sulla salute di questi popoli. Bene, quali sono stati i risultati di questo bellissimo studio? Prima però di dirvi ciò, dobbiamo fare un'altra premessa, è noto dal mondo scientifico che tutte le popolazioni indigene di tutto il mondo hanno comunque sia una pressione sanguigna molto più bassa rispetto a quella nostra. Qual è il fattore che determina una pressione così bassa? Probabilmente lo stile di vita che determina queste differenze, non è la genetica, non è che siccome soffriamo di pressione alta, quello è un capriccio della natura e quindi per quel motivo soffriamo di pressione alta. Ma è lo stile di vita che va a determinare alcuni tipi di patologie, perché il modo in cui viviamo permette appunto la cattiva o la buona espressione degli alcuni dei nostri geni, ovviamente. quindi avendo detto che i popoli tribali hanno comunque sia una pressione più bassa rispetto alla nostra, su quale base, su quali parametri si dice appunto che la pressione normale deve essere di tot valori, se prendendo appunto questi popoli tribali invece la pressione è molto più bassa appunto. E inoltre questi popoli ci danno, sono un tesoro molto importante perché ci danno diciamo informazioni sul nostro stato di salute presumibilmente ai tempi ancestrali. Quindi quando noi ovviamente quando i nostri antenati ovviamente vivevano anni e anni fa non abbiamo alcune prove per quanto riguarda la loro pressione, per esempio, perché ovviamente la pressione arteriosa non lascia fossili. E quindi con questi popoli invece noi possiamo vederlo. Quali furono i risultati dello studio per andare adesso sul concreto? Quello che osservarono fu che gli equana, cioè coloro che avevano avuto accesso alla pista, avevano una pressione sanguigna che aumentava con l'avanzare dell'età come noi uomini civilizzati. Gli yanomami invece non avevano ipertensione senile. E questa non è magia nera, questo è proprio legato appunto al contatto con la civiltà al contatto appunto con l'uomo moderno e con lo stile di vita occidentale se vogliamo dell'uomo moderno. Quindi possiamo dire che alcune malattie della senescezza si possono prevenire con uno stile di vita adeguato. Se abbiamo uno stile di vita buono possiamo prevenire tantissime malattie della vecchiaia. La prevenzione è la prima medicina. Se noi andiamo a trattare soltanto il sintomo non stiamo assolutamente curando. Quella è la medicina degli schiavi, come diceva appunto Platone. Cioè dobbiamo appunto cercare di andare a trattare le cause che determinano appunto quel determinato problema. Cioè il sintomo è una manifestazione di un qualcosa che non va nel nostro organismo, non è la causa. Bisogna ricercare la causa, correggerla, allontanarla, eliminarla. Per cui crolla, cade quel mito secondo il quale il progressivo aumento della pressione sanguigna con la vecchiaia sia una legge della natura. No, l'aumento della pressione con la senescenza non è assolutamente una legge della natura, ma è legata allo stile di vita. E allora noi che cosa possiamo fare nel concreto, nel pratico? Noi possiamo fare esercizio fisico, una forma fisica pessima, è correlata con una mortalità precoce. Il movimento è vita, se non c'è movimento siamo morti ovviamente. E poi una dieta congrua, una dieta non ricca di sale. Sul sale ho fatto un focus su un video specifico, proprio sul sale, ho fatto un video proprio dedicato, approfondito, sul discorso del sale. Cioè oramai nelle nostre diete il contenuto di sale che noi assumiamo è veramente molto 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 alto, ma per risolvere questo problema, come ho spiegato in questo video, non è sufficiente mettere meno sale sulla carne, mettere meno sale sull'insalata e così via. Bisogna anche prestare attenzione a quello che è il sale occulto. Però se vuoi approfondire questo focus sul sale ti invito a guardare quest'altro video che ti sto dicendo, che è sul mio canale, lo trovi nella playlist di antropologia medica e dentale, perché appunto questo è proprio un video a parte, è un argomento che merita un video a parte, altrimenti questo video diventerebbe troppo lungo. In ogni caso io con questo video ho finito, se ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, a iscriverti al canale, ti ringrazio per l'attenzione, se hai delle domande puoi scrivermela qui sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!